tipo mezz'ora per cercare una partita di più ma Jack qual'è peperozzo? beh non lo so come non lo sai? starà guardando il live di Luke? peperozzo fa rima con? boh accettate c'è ma Reno ma non sa niente ma non sa niente timone perchè l'avete detto nel video che fa rima? 150 milioni di video abbiamo lanciato un altro gol contest per farla rima sono rimasto a caramella oh ma che cavolo perchè non va l'accetta? si ma ci ho accettato lo so io l'ho accettato tre volte ciao a tutti stiamo con tutto il team a tutti salutate salutate porco stiamo usando il deathmatch come allenamento onestamente per allenarci eh a morire ci stiamo allenando praticamente a morire ma io no invece ho trovato la mia arma ma perchè mamma mi spawniamo anche? ho trovato la mia arma qual'è? qual'è la tua arma? mamma mi fatti killare mamma mi dash leme 4 leme 4 eh ho capito ecco voglio un'arma con la pistolina vai a cagare pezzo di netto silenzatore ok ragazzi io inizierò a bestemmiare tutti i santi del paradiso perchè finchè non inizio a fare ecco giù un busto ragazzi ma va ma va a fa siete spacciati ma siete spacciati il ciclo e te eh adesso vanti merda metti te lo in culo i pezzi di merda io sto mirando con le lini ma va a cagare ma sto vanto su me la miccia ma guarda quanto sono smircio ma che smircio ma quello c'è big arma nabba c'ha spada sola quella cosa si vabbè sbloccato mezz'ora nel buco ma che cavolo ma che schifo è o come rotto il cazzo ma sempre a te trovo ma iniziamo mi date una fottuta armati o bon no nessun'arma devi andare avanti e morire se te la non di pistola ho fatto no ma non riesca a fare cambiare eh sì si le puoi cambiare si gioca con armi casuale di smash tu non vede coglioni se hai cambiato la pistolina gioco di pistolino ah tutta sta gente che è uscita vabbè mamma ma perchè mi nooo quasi morto perchè mi da la pistolina e basta o aiuto come perchè ti da hai premuto B hai selezionato l'arma ehi non è giusto ma porco oddio ma va cagare e dai ma perchè si sfidano le ki bella un fra ci vedi eh quante hp ha eh no va cagare o aiuto da cagare nooo chi è che mi stava aspettando lì quel bastardo maledetto a decimo round gioco la pistola va bene forse me la cambia no no niente pistola per forza ma hai messo armi casuali disattivate con F3 sono disattivate non mi da un cazzo e devi comprare le armi nooo la prima volta no sempre qui per esempio ma porco oh che cavolo mi spawnano da dietro questi pezzi di merda 3-4-1 è bellissimo e maggio 83 in 5 ma guarda che merda che sono 4-1 è brutissimo dai ma lo so il casino quel M4-1 eh il M4-1 l'ho detto però è bello vuol dire fa casino quelle M4-1 1 di questo vabbè ma nella copola dove iniziate going on incazzato ma mi t bereit ma ma va cagare No cacamula compro io SG no è giusto lui Non vedi il cazzo qua Eh ma esce questo qua Ma va a cagare però No basta No Io mi ho killato Sto scemo pezzi di merda No però sto M4 a 1 Ma io non lo posso comprare Perché? Non ho capito questo 100% Ma va a cagare Ma non stavi combattendo contro di me Stavo contro di te Ho pure shotato Quello si è preso la grigia Come è fatta ad avere l'M4 Io non me lo compro a me Con B E si vince B Quando lo spawni pronti E dove sta? Non c'è Quasi i terroristi non ce li hanno Non ce li hanno Non ce li hanno Ma per forza sei terrorista Non ce li hanno Stai stare pazzo Ma guarda questo Ma mi si stilano le ghiri Sto cosa fa il M4 a 1 Con il Con il Con il tipo Vabbè mamma va a cagare Col popone Grazie per la risposta Eh che cavolo ne so 3100 3100 Poi stanza Pesso Oh ma un Gesù Cristo che non mi ucciderà dietro esiste No Uno No Pensa che ho matto pure le gavine Voglio fare io una tiglia dietro Posso No a cagare No Si che ho fatto Quella qua è schifo agli exit così Ma vabbè normale Ma quel è bravissimo Guarda me ti sparo a minchia che non è per uno Ma ci fa che lì fa paura però Ha rotto i coglioni Ma va a cagare Fa un p di merda Dove è cavolo vuoi? Guardate le mappe Ma mi guarda la mappa per giocare qua Ma va a cagare Si è stilato la ghiri Si è stilato la ghiri Vabbè le doppie stavo a provare Ma va a cagare No Sto coccolino Sto ucciso coccolino ragazzi Sto impanando niente No vabbè Vabbè La ghiri stavano Dove stanno? Dove stanno questi pezzi Oh ragazzi siamo nella top 10 sopra Siamo GG Che tre lo Non mi trovate Perché non trovo persone Ma perché si è nato a top 10 Non trovo gente da uccidere Maggio non vedo un antiterrorista Dove siete? Tutti morti Tutti morti Stanno camperando come gli ossessi E vabbè però Stavo usando avanti delle mamme davanti Ma che c***o Ma che c***o Ma che c***o Ma che c***o Come minimo Ma questo è bello Siete ma tu sei nell'anti O nei terror? Anti Ma io non sto lagando 200 di ping No 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 mi ha killato questo Quanto mi ha fatto di danno? Zero No 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 Mammi guarda quanto è killo di seguito Che cosa che ha vinto? Cliff Va bene ragazzi È stato un piacere giocare con voi questo deathmatch Siamo arrivati nel top 10 Siamo stati GG Cioè GG Terzo nella mia squadra Siete spacciati mi ha superato Bella siete spacciati Mamma mia M4A1 è troppo bello Hai visto? Hai trovato la tua arma Ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio Se vi piace la modalità deathmatch mettete un pollice in su Altrimenti faremo le competitive in cui perdiamo Ok? Quindi mettete pollice in su E soprattutto commentate e condividete l'episodio Ciao a tutti Soprattutto bestemmiate su CSU Ciao a tutti Soprattutto bestemmiate su Soprattutto bestemmiate su